Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Michael Kearney vive con i genitori John e Anne e la sorella maggiore a Heath, un piccolo sobborgo di Paducah in Kentucky. Heath si trova nella contea di McCracken. I suoi abitanti costituiscono la tipica piccola comunità unita che si trova in cittadine del genere. Quella per intenderci in cui i vicini si conoscono abbastanza bene e si aiutano tra di loro. Un posto pacifico in cui non succede mai nulla. Il padre di Michael è un imprenditore avvocato della zona. Sua madre ha una laurea in educazione, ma ha deciso di rimanere a casa e fa la casalinga. Kelly, la sorella di Michael, frequenta l'ultimo anno alla Heath High School. È una ragazza ben voluta ed è estremamente intelligente. Per Michael però non è facile seguire le orme di sua sorella, che sembra eccellere in tutto. Il ragazzo infatti odia essere paragonato a lei perché sa di non essere alla sua altezza. Gli genitori di Michael provano a stargli vicino. Suo padre si sforza di portarlo a diversi eventi sportivi. Ma alla fine Michael si sente e si considera l'emarginato della famiglia. Kelly, sua sorella, fa parte della banda musicale della scuola e i suoi genitori sono attivi sostenitori dell'organizzazione scolastica. Trascorrono molte ore a scuola grazie alle attività della figlia e conoscono anche molti studenti. La loro porta è sempre aperta. Gli amici di Kelly sono sempre benvenuti. Spesso vengono invitati anche a cena, ma soprattutto vengono accolti anche quando litigano con i loro genitori. I ragazzi della zona quindi identificano la casa della famiglia Carney come una sorta di rifugio sicuro. A differenza di Kelly, Michael ha parecchi problemi a scuola. Non riesce proprio a farsi accettare dagli altri studenti. E anche qui, come a casa, si sente escluso. Michael inoltre non è atletico, porta gli occhiali e sembra più piccolo della sua età. Un insieme di elementi che lo portano a essere anche, purtroppo, vittima di bullismo. Stando però ai suoi compagni di classe, non è vero che trattano male Michael, anzi, a quanto pare il bulletto è proprio lui. Il ragazzino è solito punzecchiare i suoi compagni di classe, fa spesso scenate durante le ore di lezione e soprattutto è solito fare scherze di cattivo gusto. Michael, sottolineano i suoi compagni di classe, tutto sommato è fastidioso sì, ma innocuo. La spirale discendente di Michael inizia in terza media, poiché viene menzionato nella rubrica di gossip del giornale della scuola. Nello scritto viene affermato che il ragazzo è coinvolto in una relazione omosessuale. Nonostante questa sia una bugia bella e buona, quando i suoi compagni leggono il giornale della scuola, ci credono. C'è da chiedersi poi come mai un consulente della scuola o un professore incaricato, perché c'è sempre una figura che dà un occhio a queste pubblicazioni prima che vengano diffuse, non si siano resi conto della situazione prima che il giornale andasse in stampa. In ogni caso le voci si diffondono e nonostante siano falsità, la gente ci crede e inizia a prenderlo in giro. Purtroppo Michael non ha il potere di fermare queste dicerie. Così inizia ad essere tormentato dai compagni di classe e si sente profondamente umiliato. È infelice, i suoi voti iniziano a peggiorare e arriva anche a pensare di togliersi la vita. A questo punto inizia a comportarsi in modo a dir poco inappropriato. In un'occasione fa esplodere una bomba puzzolente nell'edificio, in un'altra toglie i pesci dall'acquario nell'aula di scienze e inizia a calpestarli. Nell'autunno del 1997 però Michael può finalmente lasciarsi alle spalle le brutte esperienze avute alle medie e iniziare a frequentare il suo primo anno di liceo. Il primo anno può risultare stressante anche per i migliori studenti, ma può essere un vero e proprio incubo per chi non si adatta o soffre di qualsiasi tipo di disagio sociale. A seguito di ciò che era successo l'anno precedente, Michael è comprensibilmente nervoso. Spera che nella nuova scuola le cose possano migliorare, così da lasciarsi alle spalle l'esperienza che ha vissuto alle medie. Sfortunatamente la realtà si rivela ben diversa da quanto sperava il ragazzo. Michael inizialmente viene effettivamente bullizzato. Gli altri ragazzi gli rubano il cibo dal vassoio immensa, lo prendono in giro e talvolta provano anche a colpirlo con delle mosse di wrestling. Mi spiego meglio. Più precisamente alcuni dei suoi compagni sono soliti bloccargli la testa tra l'incavo del loro gomito e il lato destro del corpo. Michael che è visibilmente più piccolino dei suoi coetanei non prova neanche a reagire. La cosa più assurda è che altri episodi di bullismo avvengono proprio mentre è in classe e gli insegnanti non fanno nulla per fermare la situazione. In un'occasione alcuni dei suoi compagni di classe arrivano a lanciare il suo progetto di scienze dalla finestra e anche in questo caso l'insegnante non interviene. Un'altra volta alcuni compagni di ginnastica lo deridono apertamente perché non è molto bravo a giocare a basket. In questo caso avviene qualcosa di ancora più grave. L'insegnante di ginnastica si unisce ai compagni e inizia a prenderlo in giro. Per di più dato che evidentemente a questo insegnante non basta prendere in giro Michael lo umilia davanti a tutti costringendolo ad andare a giocare con le ragazze. Come già vi ho detto Michael odia essere paragonato alla sorella Kelly. Però durante quel primo anno tenta di seguire le sue orme unendosi alla banda della scuola. Anche perché Kelly è all'ultimo anno ed è capo della band. Ricopre quindi un ruolo importante ma ahimè non è di alcun vero aiuto a Michael. Anche se il ragazzo quell'anno tecnicamente diventa un membro della banda la scuola non ha abbastanza uniformi per tutti. A Michael e ad un altro ragazzo viene quindi detto che non avrebbero ricevuto la loro divisa e quindi non avrebbero potuto prendere parte alla competizione tra le bande. In realtà questa situazione si risolve in fretta. Due membri della band decidono di abbandonare il gruppo all'inizio della stagione e quindi alla fine a Michael viene data un uniforme. Ciò però non cambia i sentimenti del ragazzo, si sente sempre messo in secondo piano, un emarginato sia a casa che a scuola. Anche se in effetti sua sorella Kelly prova ad aiutarlo chiedendo alla banda di dare una possibilità a suo fratello. Michael in realtà non è un ragazzo solitario ma non ha molti amici. Ecco perché si convince che il problema sia in lui. È lui che non riesce ad entrare in un gruppo e a farsi accettare. A livello sociale a scuola Michael si sposta da un gruppo all'altro ma non viene mai pienamente accolto. Quando inizia il suo primo anno di liceo Michael è determinato a cambiare le cose. È incuriosito dal gruppo di studenti goth della scuola ed è disposto a fare di tutto per ottenere la loro approvazione. La sottocultura gotica verso la fine degli anni 90 viene resa in un certo senso malvagia dai media. Peccato che tutto ciò che viene detto su di loro è totalmente inesatto. Gli studenti di questo gruppo tendono ad essere indubbiamente meno violenti rispetto agli atleti di molte scuole superiori ad esempio. I goth non sono adoratori del demonio o non si riuniscono i fine settimana per offrire in sacrificio gli animali a satana. E soprattutto non bevono sangue. Tutte queste informazioni vengono rese pubbliche proprio da giornali e televisioni mettendo in cattiva luce dei ragazzi che amano semplicemente uno stile un po' alternativo rispetto a quelli canonici. La sorella di Michael Kelly sostiene che questi studenti sono volutamente antisociali. Insomma l'unica loro colpa è quella di rifiutare l'ordine gerarchico sociale del liceo. Inoltre spesso sono vittime di bullismo o ancora di molesti a scuola ma raramente si vendicano. Michael dunque pensa che il gruppo dei goth sia disposto ad accettarlo perché lui stesso si considera un ragazzo emarginato. Ma Presto comprende che anche quel gruppo può essere esclusivo esattamente come i gruppi formati da persone popolari della scuola. Come la maggior parte degli altri studenti anche loro tollerano Michael ma non lo accettano mai come membro del gruppo. Nel disperato tentativo di ottenere la loro approvazione il comportamento di Michael a scuola diventa sempre più strano. Per impressionare i ragazzi porta i suoi cd a scuola e li regala sostenendo di averli rubati. In diverse occasioni ruba dei soldi dal portafoglio di suo padre per poi regalarli ad alcuni ragazzi goth. I ragazzi accettano chiaramente di buon grado i regali di Michael ma continuano a tenerlo a distanza. Quel ragazzo non è uno di loro. Alle medie nonostante le difficoltà Michael non ha mai causato problemi. Ma le cose cambiano quando inizia a frequentare il liceo. Durante i primi mesi dell'anno scolastico il ragazzo viene ripreso per la sua indisciplina in quattro occasioni diverse. Una volta ha rubato del cibo in scatola da un'aula poi è stato sorpreso a utilizzare uno dei computer della biblioteca della scuola per entrare nel sito di Playboy. Viene dunque ripreso e gli viene impedito di usare i computer della scuola. Si mette nei guai anche per aver graffiato sul collo un suo compagno di classe. Questo fatto però avviene in un momento particolare. Due ragazzi cercano di scriversi addosso con delle penne. Michael non ha intenzioni violente. Anche se viene sorpreso a portare a scuola un paio di nunchaku. Si tratta di un'arma contundente diffusa in alcuni paesi dell'Asia orientale, costituita da due corti bastoni uniti mediante una piccola catena o corda. Viene anche utilizzata nelle arti marziali. L'arma di Michael inoltre è di plastica. Insomma sembra più che altro un oggetto per far scena piuttosto che un'arma pericolosa. Durante quell'autunno Michael ha alcuni problemi disciplinari ma i suoi voti a scuola risultano ottimi. La sua pagella è piena di voti che non scendono al di sotto della B. Tuttavia il giovane è preoccupato piuttosto che felice di aver ricevuto ottimi voti perché vuole davvero farsi accettare dal gruppo di ragazzi GOT. Così decide di portare per la prima volta la pistola di suo padre a scuola. Inizialmente la sua intenzione è quella di venderla a qualcuno. Alla fine però la dà a un altro studente. Quest'ultimo lo minaccia dicendogli che lo avrebbe denunciato alla polizia se non gliela avesse regalata. Il giorno precedente all'inizio delle vacanze per il ringraziamento Michael porta nuovamente a scuola una pistola nel tentativo di impressionare i suoi compagni di classe. Questa pistola in realtà appartiene al padre di un suo amico. Infatti Michael è entrato nel garage dell'amico proprio per sottrarre l'arma. Esattamente come in precedenza Michael non impressiona proprio nessuno. Piuttosto i suoi compagni lo prendono in giro dicendogli che la pistola è troppo piccola e comunque Michael non ha con sé dei proiettili. Il ragazzo quindi frustrato inizia a dire alla gente che sarebbe accaduto qualcosa di grosso nell'atrio della scuola il lunedì successivo alle vacanze per il ringraziamento. Quella sarebbe stata a suo dire la resa dei conti. Si rivolge poi ad alcuni ragazzi Gott afferma che avrebbe iniziato sparando agli ipocriti del gruppo di preghiera che per l'appunto si riunisce ogni lunedì mattina nell'atrio della scuola. Analizziamo la situazione. A questo punto Michael ha già portato una pistola a scuola in due diverse occasioni e in pratica prima delle vacanze ha detto ai suoi compagni di scuola che ci sarebbe stata una sparatoria. Nonostante ciò nessun compagno sente il bisogno di denunciare questa situazione parlandone con una persona adulta come un professore o un genitore ad esempio. Alcuni di questi compagni di classe diranno poi alla polizia che Michael portava cose strane a scuola per impressionare le persone ma di non aver mai sospettato che fosse violento. Se solo uno degli studenti avesse denunciato le minacce di Michael a un insegnante o a un genitore molto probabilmente ciò che è avvenuto in seguito avrebbe potuto essere evitato. Per Michael non c'è modo di tornare indietro ora. Durante le vacanze del ringraziamento il ragazzino ruba altre armi sia suo padre che all'amico a cui ne aveva già rubata una. Quando lunedì mattina torna a scuola con sé ha un vero e proprio arsenale. Ha lo zaino pieno di munizioni con una pistola mentre altre due pistole le ha avvolte in una coperta che tiene in mano. Ai suoi genitori dice che nella coperta ci sono alcuni oggetti di cui ha bisogno per un progetto di inglese e loro non hanno motivo per non credergli. Non sono al corrente del fatto che il ragazzo ha già portato due pistole a scuola. Mentre Michael sale in macchina con Kelly per il breve viaggio verso il liceo la sua famiglia non ha idea che quella sarà l'ultima volta che lo vedranno come una persona libera. Per loro quello è un giorno qualunque. Kelly non percepisce che qualcosa non va mentre entra a scuola con Michael. I due passano dalla sala di musica come al solito ma questa volta Michael si dirige immediatamente verso l'atrio. Il suo insegnante di musica nota lo strano fagotto che il ragazzo ha tra le mani e gli chiede di cosa si tratta. Anche lui Michael ripete la storia che ha raccontato ai suoi genitori sono degli oggetti di cui ha bisogno per la lezione di inglese. L'insegnante di musica non chiede altro e crede a ciò che gli dice Michael. Una volta arrivato nell'atrio Michael si dirige verso l'angolo dove i ragazzi goth si riuniscono sempre prima della lezione. Ma quello non è l'unico gruppo che utilizza l'atrio come luogo di incontro. Ogni mattina si possono trovare più di due dozzine di studenti che pregano proprio al centro dell'atrio. In realtà si incontrano solo per un paio di minuti, giusto il tempo di prendersi per mano, dire una breve preghiera e tornare in classe per l'inizio delle lezioni. Nessuno del gruppo dei goth sembra eccessivamente preoccupato per Michael o per il contenuto della sua coperta. Semplicemente si allontanano continuando a conversare comportandosi come se Michael non ci fosse. Nessuno si accorge di nulla mentre il ragazzo fruga nello zaino alla ricerca dei tappi per le orecchie e della pistola. Nessuno presta attenzione quando carica l'arma. Sembra che Michael sia invisibile. Il gruppo di preghiera ha appena terminato quando Michael si alza. Spara un totale di otto colpi agli studenti, anche se dirà che in realtà non stava mirando nessuno in particolare. Di otto i colpi hanno ferito qualcuno. In pochi secondi Michael uccide tre persone e ne ferisce altre cinque. Nicole Hudley, Jessica James e Case Steger vengono ferite gravemente e portate d'urgenza in ospedale. Ma non ce la fanno. Muoiono tutte e tre durante la notte. Altri cinque studenti vengono feriti anche se non rischiano la vita. La sparatoria finisce rapidamente. La pistola presente nello zaino è l'unica arma con cui Michael ha sparato. Si arrende immediatamente, anche se dopo aver appoggiato la pistola a terra, grida verso uno studente di ucciderlo. Il preside arriva da Michael quasi subito. Lo afferra per portarlo nel suo ufficio, mentre cerca di capire cosa sia appena accaduto. Le sparatorie nelle scuole, allora, erano abbastanza rare. Infatti non erano ancora stati creati dei protocolli né effettuate delle esercitazioni per capire come agire in caso di una situazione del genere. La polizia cerca immediatamente di raggiungere la scuola. Nel tentativo di creare una parvenza di ordine, agli studenti viene ordinato di presentarsi in classe, come al solito. In quel momento tutti obbediscono, compresi altri due studenti che moriranno durante la notte, in quanto in quei primi minuti lo shock ha impedito loro di comprendere la gravità delle ferite riportate. Pian piano però lo shock inizia a svanire e tutti gli studenti devono affrontare la realtà di ciò che è accaduto poco prima, ma per loro è difficile da comprendere. Insomma, Michael è andato su tutte le furie compiendo un gesto davvero grave, ma nessuno ha idea del motivo per cui l'ha fatto. Il ragazzo si è lamentato per anni di sentirsi emarginato sia a casa che a scuola, ma a quanto pare solo ora emerge la verità. Michael qualche amico ce l'aveva, era addirittura riuscito a fidanzarsi con una ragazza, quindi il problema che pesa tanto a Michael in realtà non esiste. Non è emarginato, ma lui crede di esserlo. Dando uno sguardo al suo passato ci si rende conto che questa non era l'unica paranoia di cui soffriva. Il ragazzo, prima della sparatoria, non ha mai ricevuto sostegno psicologico, ma diventa presto evidente che di problemi ne aveva eccome e andavano affrontati. Michael ha vissuto tutta la sua vita nella paura, soffrendo per una serie di delusioni che influenzavano il suo modo di comportarsi. Uno degli aspetti più tragici di questo caso è il fatto che, se qualcuno avesse notato il bizzarro comportamento di Michael, questo ragazzo avrebbe potuto forse ottenere l'aiuto psichiatrico di cui aveva bisogno. La sua rabbia e le sue paranoie probabilmente sarebbero state valutate, avrebbero con molta probabilità ricevuto una terapia e quindi la sparatoria poteva essere evitata. Col seno di poi è difficile credere che la famiglia di Michael non avesse capito che qualcosa non andava, ma ha fatto di tutto per mantenere segreti i suoi problemi. Michael a 14 anni aveva ancora paura a dormire nella sua stanza da solo. Spesso dormiva sul divano del soggiorno perché lì si sentiva più al sicuro e quando dormiva nella sua stanza si armava di coltelli da cucina, nel caso avesse dovuto difendersi da un attacco che riteneva imminente. Dopo il suo arresto sono stati trovati numerosi oggetti metallici nascosti sotto il suo materasso. Quando gli è stato chiesto perché li avesse messi lì, Michael ha dichiarato che c'era un uomo con una motosega che viveva sotto casa sua e che gli avrebbe tagliato le gambe. Aveva dunque messo gli oggetti di metallo sotto il suo materasso per fare da scudo contro la motosega. A volte aveva persino paura di camminare sul pavimento perché era convinto che l'uomo con la motosega sarebbe riuscito ad attaccarlo. Se aveva bisogno di attraversare una stanza lo faceva saltando sui vari immobili per assicurarsi che i suoi piedi non toccassero mai terra. Michael credeva che ci fossero demoni nascosti in tutta la sua casa. Era convinto inoltre che delle piccole entità vivessero all'interno delle condutture. Quando faceva la doccia copriva le prese d'aria della camera da letto con degli asciugamani, in parte per proteggersi dalle piccole entità, ma anche perché credeva che dei serpenti sarebbero strisciati attraverso le prese d'aria scoperte. Una volta finita la doccia si avvolgeva in almeno sei asciugamani. La sua paranoia si estendeva anche fuori casa, sentiva voci tutto il tempo. A volte queste voci gli dicevano di fare alcune cose, come ad esempio rubare delle pistole e portarle a scuola. Altre volte lo insultavano dicendogli che non valeva niente. Aveva paura di essere aggredito anche quando si trovava in zone note per essere sicure e pacifiche. Pensate che si rifiutava anche di uscire a cena perché credeva che la sua famiglia sarebbe stata derubata se fosse andata in un ristorante. La cosa assurda è che Michael era riuscito a non farsi notare dalla sua famiglia. Era terrorizzato per qualsiasi cosa, era paranoico. Eppure i suoi genitori non avevano avvertito alcun campanello d'allarme. Credeva anche fermamente che chiunque avesse cercato di aiutarlo sarebbe stato attaccato dai demoni. Non voleva assumersene la responsabilità, quindi soffriva in silenzio. Sebbene si rifiutasse di parlare con i suoi genitori delle sue paranoie, era stato sincero in diversi temi che doveva fare per scuola. Un saggio che è intitolato The Secret, ossia il segreto, fornisce alcune informazioni sul motivo per cui credeva di essere l'emarginato della famiglia. Eccone un passaggio significativo. Sono stato portato a credere che ci sia un segreto nella mia famiglia che i miei genitori e mia sorella conoscono. Sono sempre escluso. Ha scritto di aver origliato una conversazione tra i suoi genitori. Secondo lui stavano discutendo sul rivelargli o no questo segreto. Ma Michael credeva di aver già capito tutto. Infatti nel suo tema scrive esattamente queste parole. Penso di essere un alieno, ma non ne sono sicuro. Di tanto in tanto, tra l'altro, Michael esprimeva anche pensieri suicidi. Da matricola, uno dei compiti che la sua classe doveva completare consisteva nello scrivere una lettera ai se stessi del futuro. Queste lettere sarebbero poi rimaste sigillate fino a quando gli studenti non fossero stati all'ultimo anno e a quel punto le avrebbero aperte e avrebbero riflettuto sulla loro carriera scolastica. Michael sembrava pensare che non ce l'avrebbe fatta ad arrivare all'ultimo anno e nella sua lettera scrisse, se stai leggendo questo sono sorpreso che tu sia ancora vivo. Negli scritti di Michael c'erano prove tangibili della sua paranoia, dei suoi pensieri suicidi e anche omicidi. Sembra anche che assumessi in modo incontrollato dei farmaci da prescrizione. Sfortunatamente nulla di tutto ciò è stato portato all'attenzione dei suoi genitori, quindi non è mai stato in terapia o da uno psicologo. Poiché gran parte di ciò che scriveva sembrava essere completamente in contrasto con la sua personalità, infatti Michael era conosciuto come un burlone che non era mai stato violento e certamente non era un tossicodipendente, sembra che i suoi insegnanti dubitassero che ci fosse della verità dietro alla sua scrittura creativa. Il movente di Michael per la sparatoria non è facile da comprendere. Non aveva un elenco scritto di persone che voleva morte, anche se aveva detto a dei ragazzi che stava pianificando un atto di spargimento di sangue che avrebbe coinvolto gli ipocriti del circolo di preghiera. In effetti ha preso di mira solo coloro che avevano preso parte al gruppo di preghiera, ma non è chiaro il motivo. Michael tra l'altro era in rapporti amichevoli con alcune di quelle persone e sua sorella a volte prendeva parte a quelle preghiere. Dopo la sparatoria emergono domande su quante persone fossero a conoscenza del fatto che sarebbe accaduto. Michael aveva fatto di tutto per nascondere le armi rubate e i suoi piani ai suoi genitori, ma non era stato così attento a scuola. Diversi studenti ammettono infatti di aver visto Michael con una pistola a scuola in precedenti occasioni, ma anche questo non è bastato a convincerli che era seriamente intenzionato a sparare a qualcuno. Ognuna di queste persone avrebbe potuto fermare il massacro se solo avesse coinvolto un adulto. È ovvio che Michael soffriva di una sorta di disturbo mentale ed è difficile credere che nessuno avesse notato la sua sofferenza prima della sparatoria. Michael credeva che chiunque avesse cercato di aiutarlo sarebbe stato ferito dai demoni, quindi si è impegnato molto per comportarsi come se niente fosse. La sua riluttanza ad ammettere di aver bisogno di aiuto in ogni caso continua anche dopo il suo arresto. Quando viene intervistato da uno psichiatra per determinare se fosse in grado di intendere e di volere al momento della sparatoria, cerca di minimizzare i suoi sintomi. Di conseguenza lo psichiatra conclude che sebbene Michael soffrisse di qualche forma di malattia mentale, ciò non aveva influito sulla sua capacità di giudicare il bene dal male. Dopo la condanna però qualcosa cambia e Michael si apre completamente raccontando tutte le sue paranoie e le sue paure. Lo psichiatra dunque ammette che se avesse saputo tutti i fatti quando ha iniziato a vedere Michael, avrebbe stabilito che l'adolescente non era mentalmente competente quando ha commesso il crimine. Nell'ottobre del 1998 quindi Michael si dichiara colpevole, ma non è in grado di intendere e di volere. Più precisamente si dichiara colpevole per tre capi d'accusa per omicidio, cinque capi d'accusa per tentato omicidio e furto con scasso. Inizialmente gli avvocati di Michael avevano indicato che il ragazzo si sarebbe dichiarato non colpevole a causa dei suoi problemi psicologici, ma dopo essere stato esaminato da numerosi psichiatri e altri professionisti della salute mentale, Michael ha deciso di cambiare la sua dichiarazione incolpevole. Il tribunale ha accolto la richiesta e il 21 dicembre si è tenuta un'udienza di condanna più di un anno dopo la sparatoria. Dal momento che Michael aveva meno di 16 anni quando ha commesso il crimine, la pena massima consentita era l'ergastolo senza idoneità alla libertà condizionale per almeno 25 anni. Quasi all'inizio della sua incarcerazione lo stato mentale di Michael sembra deteriorarsi ancora di più. Sebbene inizialmente gli vengano diagnosticati depressione e disturbo schizotipico di personalità ai suoi sintomi, peggiorano nei mesi successivi al suo crimine. Ha difficoltà a venire a patti con ciò che ha fatto e si è sentito incredibilmente in colpa quando ha saputo di alcune sparatorie nelle scuole che hanno avuto luogo dopo la sua. Crede in effetti di essere direttamente responsabile anche di queste sparatorie e il senso di colpa e la depressione che prova lo portano a tentare il suicidio in diverse occasioni. Una volta trasferiti in una prigione per adulti gli vengono somministrati due nuovi farmaci antipsicotici. Fortunatamente grazie a questi farmaci riesce finalmente a prendere le distanze dallo stato delirante in cui viveva e aprirsi per la prima volta su ciò che era accaduto nella sua mente nei mesi precedenti la sparatoria. Deway Cornell, uno psicologo che aveva testimoniato a nome di Michael prima della condanna, ha dichiarato che non avrebbe trovato Michael mentalmente stabile se gli fossero state fornite informazioni accurate sui suoi sintomi. Ha concluso che Michael era schizzoferenico al momento della sparatoria, era incapace di comunicare l'entità delle sue delusioni perché credeva che gli sarebbe successo qualcosa di brutto se lo avesse fatto. Armato di questa convinzione, Michael presenta una petizione alla corte nel giugno del 2004 per ritirare la sua dichiarazione di colpevolezza. Il tribunale però respinge l'istanza. Pare che lo stato mentale di Michael abbia continuato a peggiorare e sebbene alla fine avrà diritto alla libertà condizionale sembra improbabile che venga mai rilasciato. Infatti ho scoperto che Michael ha fatto richiesta per la condizionale nel 2002 e che la corte ha rigettato la richiesta. Detto questo ho finito di parlare di questo caso, fatemi sapere che cosa ne pensate qui nei commenti, io onestamente quando sento parlare di sparatorie nelle scuole mi viene l'ansia, ma davvero mi viene l'ansia, c'è il pensiero che uno studente comune si possa svegliare una mattina, andare a scuola e morire in una sparatoria mi crea un'angoscia che voi non avete idea. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso, come al solito ci becchiamo nei commenti qui sotto, io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici, basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!